pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati il vangelo di questa domenica ci aiuta a riscoprire qual è la vera grandezza c'è infatti una falsa grandezza e una vera grandezza una grandezza secondo il mondo e una secondo dio vediamo un po prendiamo in particolare due punti primo si parte dal desiderare la vera grandezza gesù ha appena annunciato la sua prossima passione morte e risurrezione e subito dopo due discepoli giacomo e giovanni gli pongono una domanda maestro concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra gesù parla di croce del dono di sé loro cercano i primi posti attenti non lasciamoci andare a facili giudizi anche noi possiamo correre il rischio di ambire alla visibilità che sia in diocesi in parrocchia in comunità anche noi possiamo portare avanti iniziative anche buone e sane con il sottile intento di emergere anche noi possiamo cercare di riempire i nostri vuoti o di esorcizzare la paura della morte con la falsa sicurezza della gloria del mondo anche noi sacerdoti dobbiamo fare attenzione al tarlo del carrierismo che illude corrode scandalizza sì anche noi rischiamo di servirci di gesù più che servirlo attenti tutti abbiamo nel cuore desideri di grandezza di realizzarci di fare cose belle questi desideri ben orientati possono condurci verso la bellezza verso il cielo ma se mal orientati conducono alla terra diventano cioè ambizione egoista e sete di potere pensate anche nel mondo perché tante guerre perché tante discordie e rivalità perché come dice la scrittura bramiamo vogliamo avere sempre di più e metterci al di sopra degli altri anche nel mondo mafioso ciò che più attira non sono i soldi e il potere ora gesù cosa fa con pazienza cerca di educare il cuore dei discepoli e dice voi non sapete quello che chiedete come a dire non ne capite la portata non sapete cosa comporta miei cari quante volte è così non sappiamo neanche noi cosa chiedere veramente al signore cosa ci giova quante volte abbiamo desiderato delle cose pensando fossero buone che poi si sono rivelate fallimentari dannose oppure quante volte lungo il cammino anche nella preghiera i nostri desideri sono cambiati si sono purificati magari chiedevamo cose materiali oggi chiediamo la grazia di amare magari chiedevamo al signore di evitarci una situazione oggi gli chiediamo di darci la grazia di affrontarla ecco gesù conduce in questo processo purificando la loro domanda egli non risponde con un diniego ma va a cercare in quel loro desiderio storto la matrice buona miei cari in fondo ad ogni desiderio anche torvo ci può essere un anelito di felicità oltre una parte da buttare via ci può essere una piccola parte sana da non perdere quante volte anche quando siamo smarriti stiamo cercando fuori strada qualcosa di buono addirittura padre turoldo disse che anche il peccato è spesso un modo sbagliato per cercare dio perciò gesù continua potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui sono battezzato cioè voi che volete partecipare alla gloria potete associarvi al mio percorso di vita potete fare la volontà del padre e dare la vostra vita sino in fondo e discepoli rispondono prontamente sì lo possiamo risposta breve forse con poca cognizione di causa ma in fondo è vero per grazia di dio potranno donarsi e far la volontà di dio diventeranno santi e gesù conferma sì il calice che io bevo lo berrete e riceverete anche il battesimo nel quale sono battezzato ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo e per coloro per i quali è stato preparato come a dire voi preoccupatevi di far la volontà di dio e di essere un dono per gli altri al premio ci penserà il padre celeste noi tante volte sogniamo di diventare qualcosa o qualcuno ma il problema non è fare chissà che cosa ma essere immersi dove dio vuole la cosa importante da chiedere non è che dio faccia quel che noi vogliamo ma che noi possiamo capire e fare ciò che lui vuole qui c'è la nostra e l'altrui felicità c'è qualcosa che lui ha preparato per noi a noi accoglierlo e lasciarci collocare al nostro posto essere come tasselli di un meraviglioso mosaico ognuno collocato al suo posto trova senso e dà senso a tutto il resto sarà dio alla fine a darci ciò che ci spetta ed eccoci al secondo punto non soltanto desiderare ma camminare verso la vera grandezza notiamo anzitutto che gli altri dieci discepoli al sentire tutto ciò si indignano con giacome giovanni forse per rivalità per gelosia perché i due fratelli avevano tentato di manipolare la comunità di scavalcare tutti in fondo miei cari tutti e dodici avevano lo stesso problema ovvero quell'ambizione quella competizione mondana che spesso purtroppo ferisce le nostre comunità le nostre parrocchie le nostre diocesi e gesù con tanta pazienza chiamandoli a sé cuore a cuore spiega qual è la vera grandezza dicendo voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano e i loro grandi esercitano su di esse il potere tra voi però non è così ma chi vuole essere grande si farà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti ecco la via della grandezza non dominare ma servire non fare da padroni ma farsi schiavi di tutti miei cari nel nuovo testamento ricorre spesso l'esortazione a non dominare l'altro nella comunità nella seconda lettera ai corinzi san paolo ha detto noi non intendiamo fare da padroni sulla vostra fede ma essere collaboratori della vostra gioia e ai pastori san pietro dice di non esercitare un potere autoritario su coloro che vi sono affidati siamo chiamati a essere padri non padroni a servire la vita degli altri non a servirci della vita degli altri perciò come ha detto bene padre ermes ronchi gesù è come se ci stesse dicendo voi vi metterete a fianco delle persone o ai loro piedi non al di sopra gli altri opprimono voi invece solleverete le persone le libererete la storia gloriosa di ciascuno non è scritta da chi ha avuto la capacità di dominarci ma da chi ha avuto l'arte di amarci sì come ha detto bene papa francesco la grandezza di una persona si basa sempre su come serve la fragilità dei suoi fratelli e per scuoterci ha aggiunto chi non vive per servire non serve per vivere attenti qui servire indica qualcosa in più della generosità o dell'impegno attivo indica una vita attesa al dono di sé alla realizzazione degli altri alla ricerca costante del loro vero bene della loro salvezza pensate che bella una parrocchia una diocesi una famiglia dove ognuno cerca il bene dell'altro perciò qualunque cosa stiamo facendo in questo momento della vita dovremmo domandarci se lo stiamo facendo per servire gli altri o per servirci degli altri ed è proprio qui miei cari il segreto della felicità l'amore ha questo di particolare apparentemente è un perdere addirittura don tonino bello disse che amare è voce del verbo morire perché significa decentrarsi uscire da sé dare senza chiedere essere discreti al limite del silenzio soffrire per far cadere le squame dell'egoismo ma è proprio in questo morire che ci ritroviamo è proprio in questo dare che la nostra vita si riempie e insieme si riempie la vita degli altri e in conclusione miei cari dove possiamo trovare la forza di servire sempre in gesù nel la certezza che proprio lui è il nostro primo più grande e continuo servitore egli stesso ha detto il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti è la più spiazzante autodefinizione di gesù dio che nel nostro immaginario sta sopra si mette sotto dio onnipotente che si fa nostro servo servo per amore e non lo fa perché lui è un super uomo ma perché profondamente consegnato al padre aperto al suo amore sostenuto dal suo amore così è per noi soltanto se siamo aperti al suo amore sostenuti dal suo amore potremmo fare altrettanto altrimenti passeremo tutta la vita a cercare rassicurazioni grandezze risultati per cercare di colmare un vuoto che sembra incolmabile cari fratelli e sorelle gesù ci consegna un modello di comunità di chiesa che all'ambizione per i primi posti sostituisce il servizio e all'immagine del capo che comanda oppone quella del capo che serve davanti a tutto ciò chiediamoci seriamente qual è la gloria che cerco quale logica guida la mia vita del servire o del servirmi e ricordiamolo bene quando un giorno arriveremo davanti al signore non ci verrà chiesto se abbiamo avuto potere o quanto abbiamo comandato ma se abbiamo amato sarà l'amore a dire se la vita che abbiamo vissuto è stata o no una vita piena e degna facciamo nostre perciò le bellissime parole di madre teresa che disse la vita è una sola io debbo spenderla tutta per seminare amore fino all'ultimo respiro ricordati che quando moriremo porteremo con noi soltanto la valigia della carità che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti